Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come La Juventus deve fare i conti con l'infortunio di Paul Pogba che mischia già le carte in vista dell'inizio della stagione del riscatto. Il centrocampista francese è già finito Coe e rischia di stare ai box a lungo. Potrebbe saltare persino il mondiale tornando nel 2023 e i tifosi invocano un altro colpaccio. Non è iniziata bene la seconda avventura juventina di Paul Pogba, finito subito al tappeto ed ora in bilico con un eventuale stop piuttosto lungo. Intanto i tifosi sognano Milinkovic-Savic, che dal canto suo è ancora alla Lazio. Juventus, riflessioni sulle condizioni di Pogba, i rischi di uno stop lungo. Il ginocchio di Paul Pogba tiene in ansia la Juventus e i suoi tifosi. Tornato tra l'entusiasmo generale, il francese è finito per Oggiaco nel corso del precampionato a stelle e strisce e rischia di rimanere lungamente ai box. Nello specifico gli si parano davanti due strade, la prima è la meniscectomia, ovvero l'asportazione del pezzettino di menisco rotto con assenza dal campo di circa due mesi. La seconda strada è invece la più lunga e temuta e porterebbe ad una sutura con un rientro non prima del gennaio 2023. Per ora restano nubi sul centrocampista francese di Allegri che intanto certamente per l'abbio di stagione dovrà andare a caccia di nuove soluzioni. Ciò che è certo è che la seconda storia juventina di Pogba è iniziata nel peggiore dei modi. Calciomercato Juventus, Pogba Co, i tifosi invocano Milinkovic Savic. Timori forti quelli relativi al rientro in campo di Pogba, che potrebbe essere particolarmente lungo. Per questo motivo nelle scorse ore i tifosi della Juventus hanno iniziato ad invocare su Twitter l'acquisto di Sergei Milinkovic Savic, per ora ancora alla Lazio e da lavoro con la squadra di Maurizio Sarri. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.